Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi si parte ufficialmente al 100% con la seconda stagione Nella scorsa puntata c'è stata solamente una piccola introduzione Per quanto riguarda soprattutto la nostra squadra su chi vendere e chi no E sulle possibili idee per questo nuovo calciomercato che inizierà ovviamente da quest'oggi Come al solito però raga prima di fare qualsiasi altra cosa Voglio ricordarvi di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità E a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione Ma anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che è sempre in descrizione Detto ciò ragazzi possiamo iniziare subito dicendovi che cosa faremo effettivamente quest'oggi Allora nella scorsa puntata ho detto che effettivamente mi servono dei giocatori nuovi No perché bisogna fare degli acquisti Quattro nostri giocatori sono stati già messi sul mercato Adesso per completezza ovviamente ve li mostro Piccolo spoiler non ci fate caso Comunque abbiamo Anderson che praticamente è già partito Deve solo proprio togliersi Abbiamo messo Simoesh sul mercato Che è uno dei giocatori forse più importanti Però abbiamo detto di voler provare ad acquistare una nuova alla sinistra Che sia anche molto giovane Poi Shepard quindi ci servirà un nuovo trezzino destro Low come Cdc quindi ci servirà un nuovo Cdc ma come sostituto in questo caso E poi anche Land che ha 32 anni e centrocampista centrale semplice Quindi anche qui vorrei provare a prenderne uno nuovo Quindi ho detto anche questo per ricordare effettivamente in quali ruoli bisognerebbe intervenire Vorrei intervenire Per l'appunto ragazzi ho cercato qualche giocatore Diciamo che penso di aver trovato qualcosa fra consigli eccetera eccetera Secondo me ci siamo Non sono neanche tutti Mi manca qualche ala da continuare a seguire Però gli osservatori questi sono Non voglio già spendere soldi per dei nuovi osservatori Quindi per il momento facciamo di necessità virtù E quindi iniziamo subito Raga penso che la maggior parte dei giocatori sono sconosciuti Certo qualche talentino Poi per il resto sono tutti un po' così Allora ragazzi ovviamente non mi soffermerò su tutti proprio nel dettaglio A 100% perché appunto sono abbastanza sconosciuti Quindi non sarebbe neanche così semplice Comunque abbiamo questa giovane ala sinistra del Trois Che il Trois è sceso in League Day Quindi dovrebbe essere fattibile teoricamente Poi Rukavina della Dinamo Zagabria Che diciamo sforna sempre talenti interessanti Un altro giovanissimo molto interessante Nuama del Nordgenland Ghanese diciamo viene subito in mente Fatah Vissakou potrebbe essere di nuovo Fatah Vissakou Poi ragazzi uno che invece potrebbe essere molto più realistico Sotto ogni punto di vista Questo Cameron Humphries Dell'Ipswich Town Centrocampista centrale Mancino più realistico di così Non so che cosa c'è Poi un altro giovanissimo McGlynn Un altro centrocampista dal piede sinistro Gioca in MLS Ci potrebbe stare anche lui Perché ci sta che un giocatore dall'America Venga a giocare in Inghilterra Anche in una serie inferiore Perché comunque ragazzi siamo in League One Siamo la squadra di Beckham Quindi abbiamo il nostro appeal Siamo abbastanza conosciuti Poi un altro giovane dalla Danimarca Sorensen Un altro centrocampista centrale E poi abbiamo questo Tanaka ragazzi Che mi ispira tantissimo Innanzitutto perché è giapponese E poi può fare sia il CTC che il CC Quindi ragazzi eventualmente Potrebbe essere utile un po' dappertutto Quindi sono curiosissimo Di sapere quanto è forte Se è forte Poi secondo osservatore Iniziamo con questo Ilenich Del segno destro Diciamo gioca In America Anche lui A New York City Poi un altro giovanissimo Nunez Che viene In pratica dal Sud America Dovrebbe essere tipo Il San Lorenzo Questa squadra Poi un altro ragazzi Che secondo me È realistico All'infinito È questo Sam Curtis Ragazzi Però Lui secondo me Ha solo 17 anni Quindi Secondo me È più debole Rispetto a Bolton Io vorrei un giocatore Che sia anche più forte Di Bolton Perché il povero Luke Ha la crescita bloccata Quindi me lo tengo Perché è stato un giocatore Importante l'anno scorso E quindi Almeno come sostituto Quest'anno Lo voglio tenere Assolutamente E appunto vorrei affiancare Di un giovane Che però Sia già Abbastanza in grado Di ricoprire Quella posizione E non so Se Curtis Potrebbe essere in grado Però sicuramente Visto che viene dal St. Patrick Quindi dall'Irlanda Sarebbe perfetto Poi un altro Un po' più talentuoso Joe Mendes Svedese Che viene Dalle Calpa Di Stoccolma Uno che secondo me È fortissimo Francese Michel Brensille Brensille Non lo so ragazzi Col francese Non so il capace Comunque William Breno gioca Gioca appunto Nell'Hamburgo L'Hamburgo Dovrebbe essere In Bundesliga 2 Nella speranza Che non sia salito In Bundesliga 1 Quindi Dovrebbe essere fattibile Poi un altro Jasic Austria Coder Wolfsberger Anche lui Dovrebbe essere trattabile Perché ragazzi Ovviamente è molto complicato Fare mercato Quando siamo ancora In Ligue 1 Perché Non posso trattare Con le squadre Di prima serie In un certo senso Di serie A Che sia Premier League Comunque di massima serie Non si può trattare Ligue 1 E Ligue 2 Non è possibile Dalla championship in poi Sarà possibile Fare pure quello Comunque appunto Jasic Dedic Da Strasburgo Ma lui Secondo me è infattibile Dedic Poi abbiamo Poi abbiamo questo Giovane Ebrahim Traore Che può fare Anche il terzino Destro Però appunto È un metro e 91 Potrebbe essere anche Un buon centralone Questo Svideski Che è un cdc Dall'Almeria Sloveno Ma sembra essere Simpatico Poi Marshall Ruti Che è un terzino Destro Che conosco Già Lui Sarebbe Secondo me Un'ottima scelta So che è forte So che cresce Viene dal Toronto Quindi Ci starebbe Benissimo E per finire Quest'ultima manciata Abbiamo questo Giovanissimo Del Preston Noah Mewin Ma Ma Non lo so ragazzi Come si chiama Lui Diciamo È realistico Tanto Perché dal Preston Ci sta benissimo Un altro Del Strasburgo Vabbè ragazzi Del Strasburgo È pieno Di questi Giovani Comunque Omerigi Omerigi Non lo so ragazzi Questo ragazzi Voggio lui Voggio lui Appena l'ho visto No ragazzi È troppo forte Ho sbirciato le statistiche Su Google È un mancino Quindi eventualmente Lo possiamo avanzare A centrocampista centrale Però ragazzi Secondo me Lui è il CDC Che voglio io Bello Fisicato Roccioso Che non fa passare Uno spiffero Lui lo voglio A tutti i costi Gioca in Belgio Non so manco Di che nazionalità Dovrebbe essere tipo Il Congo O qualcosa del genere Raga Lui va preso A tutti i costi Secondo me È divino Lì in mezzo A campo Sarebbe Una Una scoperta Anche originale Secondo me Comunque Continuando Vermen Vermerin Non lo so Ragazzi Comunque Dell'Anversa Gioca in Belgio Un altro CDC Molto giovane E talentuoso Che comunque Ragazzi A noi Ci serve un sostituto Perché Watt Rimarrà sicuramente In quella posizione Anche quest'anno Però Secondo me Al massimo Uno o due punti Poi si bloccherà Pure Watt Quindi Bisogna sempre Pensare anche In prospettiva Poi Continuando Un altro giovane Centrocampista Veramente giovane Danese 17 anni Adam Dagim 1,88 Ma lui come sostituto A posto di Lando Potrebbe essere ideale Ha una clausola D'escissoria Bassissima E questo Diciamo che mi fa capire Che dovrebbe essere Anche Di overall basso Comunque Un giovane Del Dortmund 2 Quindi È fattibile Anche per noi Lukte Fry Lukte Fry Vabbè È tedesco Peggio ancora 20 anni Un altro CDC Viene Dalla Norvegia In questo caso Mansberg Ok E per finire Non ancora Per finire Giavi Serrano Dal Mirandès Lui ragazzi Potrebbe essere Invece il CDC Dei piedi buoni Anche più spettacolari Un po' Untonali Della situazione Però è ovvio Che dovrebbe essere Un po' Tutto fare Se vogliamo Paragonarlo A Tonali E per finire Ragazzi Gli ultimi due nomi Questo Di Omand Che sembra Incredibile È irlandese Quindi ci sarebbe Che appunto Viene a giocare In Inghilterra Ma lui secondo me Ce lo fanno pagare tanto Secondo me Lui è forte Frasico E per finire Un giovane Rumeno Visto che noi Diciamo Pescare In Romania Negli anni Ci ha portato Sempre bene Abbiamo questo Costantin Grameni E questa ragazzi È la panoramica Sui giocatori Che sto seguendo Ne mancano ancora Un paio Quindi appena Finiranno queste osservazioni Che dureranno Un mese Ragazzi Quindi Ci vorrà tempo Per fare calciomercato Ma spero Che in questo mese Arrivino delle offerte E che soprattutto Ragazzi Si può intervenire Già con i giocatori Che ho In hub mercato Perché appunto Non ci dimentichiamo Che ho già Altri giocatori In hub mercato Dall'anno scorso Poi ragazzi Io ovviamente Ho cercato Il mercato Degli svincolati Prima avete avuto Un piccolo spoiler Allora ragazzi È insensato Non c'ha senso È un abomino Quello che ho trovato Negli svincolati Ho trovato Più roba mo Che in tutta La carriera Con i Genova Non aveva senso Infatti Ragazzi Mi sono fermato subito Perché ho detto Vabbè dai È una pagliacciata Lo mostro in video Per far vedere Anche che effettivamente Ho controllato Gli svincolati Però Diciamo che Capirete subito Che non c'ha senso Perché ragazzi Gli svincolati Diciamo Ho messo questi tre In lista Perché sono quelli Più eclatanti A parte questo qui Che ci stava già Dall'anno scorso Questo del Qatar Comunque abbiamo Ovviamente Leo Messi svincolato Al primo anno Però ragazzi È un 90 Non ha senso Che sia svincolato Roberto Firmino E Lucas Moura Ragazzi C'era tanta Di quella gente Che non avevi idea Tanti giocatori Fortissimi Del calibro Non di Messi Però del calibro Di Firmino Lucas Moura A voglia proprio E sono appunto Trentenni Trentunenni Si parla di Messi Cioè Questa è un'altra Cosa Che su FIFA È ingestibile Cioè Sono anni e anni Che questa cosa Degli svincolati Non è curata Cioè Tu potresti Effettivamente Crearti una squadra Solamente di svincolati Che sì Se lo fai per conto tuo Ci può pure stare Però è chiaro Adesso stiamo facendo Una serie su YouTube Sarebbe Meno spettacolare Sto facendo Di tutto Per mantenere Il realismo Sotto tanti punti Di vista Quindi Se mi vado a prendere Uno svincolato Come Messi A parte che Non ce la faccio Per lo stipendio Anche se è uno stipendio Bassissimo Perché 43.000 69.000 Per Messi Non è nulla Comunque ragazzi A parte tutto Ve li mostro al video Però Questa è la prima e ultima volta Che parleremo Di Di svincolati Diciamo che lo posso Sfruttare pure Per fare Il titolo Clickbait Per fare La miniatura Figa Però Detto questo Non possiamo fare Niente più Quindi una volta Che li ho mostrati Diciamo che possiamo Anche toglierli Dall'hub Mercato Va bene E mostrare Appunto i giocatori Che già C'ho in rosa Allora C'ho comunque In hub mercato Scusate Allora Teoricamente Poi ho detto Che con i portieri Non ci serve nessuno Poi se eventualmente Per fine mercato Ci avanza Qualche soldino Ecco forse tipo Un garrito Come secondo portiere Si potrebbe Provare a prendere Ma è solamente Una cosa Da ultimo giorno Di calcio a mercato Poi Sulla destra Ci sarebbe anche Questo Bradley Che però Ovviamente È tornato A Liverpool Difensori centrali Ragazzi Teoricamente Non ci servono Però è normale Che se parte Qualcuno Abbiamo già I giocatori pronti Continuo a pensare Che questo Wood Sia perfetto Poi l'anno scorso Diciamo Prendemmo Phillips E restammo Con Vassel Quindi Non serve Diciamo Cambiare Per così dire Poi ovvio Ragazzi Che si arriveranno Delle offerte Io le terrò Tutte in considerazione Però di base Non vado a mettere Nessuno Sul mercato Perché Soprattutto adesso Che siamo A secondo anno Sarebbe anche Irrealistico E brutto Far perdere Tutte le certezze Della squadra Perché anche I sostituti Si sono dimostrati All'altezza E poi Secondo me È troppo figa Questa cosa Del giovane Che cresce alle spalle Del giocatore Un po' più esperto Cioè ragazzi Phillips effettivamente Ha superato Anche di overall Di overall Vassel Quindi Perfetto Invece Troverza ancora Deve farne Deve farne Farne di strada Scusate Per superare Lick Perché è un 68 Trons è ancora Un 63 Se non ricordo male Quindi Avrà tutta Questa stagione Però ragazzi Sono ottimi Giocatori Molto solidi Quindi È ovvio Che non vado A toccare nulla Poi Ragazzi Appunto Questi difensori Centrali Anche i trezzini Sinistri Ce sono due Fleming E Osterford Fleming Che secondo me Continua ad essere Il realismo puro Proprio Però va bene Anche Osterford Che non si vuole Trasferire Forse il Parme È salito in Serie A E poi ragazzi Altri cdc Che già c'erano Dall'anno scorso Abbiamo questo White Non è disposto A prendere Questo giocatore Vabbè Diciamo Non ci interessa 4 milioni Di clausole È troppo Neil Che pure Lui è andato A Sevilla Stava a Sunderland Abbiamo Taylor Terry Taylor Ci sarebbe pure lui Ma non si priveranno Di questo giocatore Va bene FIFA Poi un altro giocatore Che io Diciamo avevo detto L'anno scorso Essere un fenomeno Però Irradiungibile Quindi ho fatto benissimo A seguire tantissima gente Perché ragazzi Già so come funziona Comunque abbiamo Ramsey a centrocampo Che continua a rimanere qui Perché Appena arrivo in championship Lo voglio subito O comunque Appena faccio La prima stagione Europea Se è fattibile Lo voglio prendere Vabbè I soliti Patino Bait Ragazzi Che è un altro Che avrei preso subito Però ovviamente È tornato a Leeds Se il Leeds Fosse sceso in championship Sarebbe stato perfetto Poi abbiamo giocatori Come Aziz Sul centro-destra Molto molto interessante Anche lui Balazic È tornato a Liverpool Ayari Non si preparano Fantastico E poi abbiamo sempre Chong Che è un altro Da considerare in futuro Ecco si potrebbe fare L'investimento importante Per lui Però ragazzi Costa Cioè tu qua devi spendere Minimo sui 4 milioni E visto che è un budget Di 6 Non puoi spendere Diciamo 4 milioni Su 6 Per un singolo giocatore Poi un altro interessante È questo Gioel Roca Da tenere anche lui In considerazione Comunque mi sembra Un buon esterno Potrebbe fare là Tranquillamente Molto rapido Va bene Poi Poku Che potrebbe fare L'esterno pure lui Non si preparano Di questo giocatore Ragazzi Ci sono troppi giocatori Che sono incedibili Non mi piace questa cosa Assal Che è qui andato All'Atalanta Dolan Non si è disposto A trasferirsi Ma fa che Blackburn È salito in Premier Poi questo qui Sempre svincolato E qua si parte Con le punte centrali E si ragazzi Effettivamente Con i centri avanti Si dovrebbe fare Un discorso a parte Allora L'anno scorso Ci sono stati Dei periodi Dove abbiamo avuto Tanta difficoltà A segnare I nostri due Centri avanti Diciamo che hanno fatto Quasi 15 gol a testa Quindi ci sono un attimo Divisi il compito Però ci sono stati Tantissimi Alti e bassi E mi piacerebbe Prendere un nuovo Centri avanti Che sia effettivamente Solido Una roccia Diciamo Un giocatore Che mi dia Sicurezza E che non dico Che faccia Minimo un gol A partita Ma uno Ogni due Si Quindi vorrei Eventualmente Provare a prendere Un nuovo centri avanti Però ragazzi Ovviamente Abbiamo Morton Che è quasi un 70 Quindi bisogna considerare Anche eventualmente La sua partenza Però se parte Morton Voglio un centri avanti Che mi faccia dire Wow Per esempio Non questo Simpson Perché la prima cosa Che guardo ovviamente Accelerazione e velocità E questo qui Ha anche forza fisica Sembra essere Bello baggato Questo qui Quindi si può Tenere in considerazione Ma fino a un certo punto Poi vabbè Lui sarebbe Realistico In un modo incredibile Perché appunto Viene dall'Adsfield Inglese 21 anni ci sarebbe Divinamente Poi abbiamo giocatori Come Kelman Che conosco personalmente Molto forte Ma Forse non fa Il caso nostro Terzgal Troppo giovane Con E ragazzi Con E Uuuuh Ragazzi È andato Al Serlo Largo Football Club Che sinceramente Uff Mamma mia ragazzi Ma chi è questo Cioè Però dico io Chi è ragazzi Allora questo qui Facendo la mia carriera Con lo Stockport Per conto mio Prima di iniziare La carriera Con i Stafford C'erano alcuni giocatori Che ho trovato Con lo Stockport Che mi sono segnato Perché secondo me Potevano andare bene Per l'eventuale Nuova carriera Che avrei fatto Con i Stafford City Perché ovviamente Già avevo tutto in mente E lui appunto E lui appunto Non c'entra avanti Che ho detto Mi sembra figo Non è giovanissimo Però ci potrebbe stare Ai primi anni Soprattutto E ragazzi Vale solamente Due milioni e cinque Quasi quasi Il pensierino Ce lo faccio Perché Sì Io ho detto Di voler prendere Zanzala Però è solamente Un 63 Diciamo che anche lui Visto che costa così poco Si potrebbe prendere A prescindere Diciamo Tirotini là In Panca Potrebbe fare La terza Seconda scelta Che sta sempre lì Che subentra Potrebbe essere Un po' Un giocatore Non dico Alla Simeone Perché effettivamente È sostituto Di Osimène Nel Napoli Però vabbè A parte tutto È per rendere L'idea Potrebbe essere Il Jolly Soprattutto perché È diventato Un meme Quindi Bisogna anche Fomentare Questa cosa Di Zanzala Comunque ragazzi Allora Con E Non me lo ricordavo Con queste statistiche Ragazzi A sto punto Proverei a mettere In vendita Anche Morton Perché secondo me Con lui Faremo anche Il salto di qualità È un 72 E secondo me Almeno un giocatore Così Ci vuole Quindi raga Teniamo la mente Che secondo me Qua Facciamo il botto Poi per completare Abbiamo Stansfield De Fulham Molto fattibile Anche lui Ottima statistica Potrebbe fare Sicuramente A casa nostra Però ragazzi Ecco Se ti prendi Stansfield Dici ok Un'altra scommessa Però a questo punto Mi tengo Morton Invece Se mi prendo Uno come Con E Effettivamente Mi sembra Di aver fatto Il salto di qualità Unica cosa Lo stipendio Che è un po' altino Però secondo me Sui 10.000 Ce la possiamo fare Abbiamo preso Cabret a 15.000 In un certo senso Serto abbiamo speso nulla Però A parte tutto Ci può stare Ci può stare Secondo me Poi continuando E Tete Anche lui dovrebbe essere Bello rapido Neanche troppo Più che altro È forte fisicamente Un metro e 98 Un gigante Jebison Anche lui Molto molto interessante Ecco pure con lui Forse C'era quella sensazione Di salto Di qualità Però non si priveranno Fantastico Poi era Ottimo Da affiancare Ad Huckford Visto che facevano Parte Parte Entrambi Della stessa squadra Poi appunto Zanzala È quasi parsa Agli esterni Abbiamo Red Phillips Che c'era già ovviamente L'anno scorso Mi sembra essere Molto interessante Poi questa cosa Che sia anche Un ATT Secondo me Me lo rende forte Anche con i tiri Anche se a 59 Di tiro Però ragazzi È migliorabile Rudoni Jack Rudoni Piede sinistro però Da mettere eventualmente Sulla destra Ma anche a sinistra Ci potrebbe stare Addirittura Un centrocampista Però Il cambio di ruolo Secondo me Non è fattibile E poi vabbè Ricky Jones Che sta sempre qui Come Santino Perché mi sembra giusto E quindi ragazzi Questo è Tutta questa puntata Era Diciamo Pensata solamente Per fare due chiacchiere Per capire effettivamente Come voglio muovermi E infatti Raga Penso di interromperla qui Voglio andare avanti Giusto Uno o due giorni Per far smuovere tutto Non si è smosso tutto Anderson è partito Ok Land è contento Che è stato messo in vendita Siamo al due Arriviamo al tre E ci possiamo Fermare Ok ragazzi Benissimo Questo è quello Che volevo fare Aumento del budget Ma è Già Abbastanza Ricco In un certo senso L'unica cosa Ragazzi Questa cosa Della Della squadra Lì ho paura Che Che mi esognino Perché ragazzi C'è ancora questa possibilità Di essere cacciato Quindi Visto che FIFA È strano Spero che Diciamo Salga questa barra Perché altrimenti Non so che cosa fare Effettivamente Una cosa che non ho visto Sono gli obiettivi Della diligenza Che dove si vedono Obiettivi Vedi hanno così poca importanza Che uno Non ci fa manco caso Si è pagato Va bene FIFA Che dice Vogliamo uscire Benissimo Addirittura abbiamo 54 Che è pochissimo E non ha senso Visto che abbiamo vinto Il campionato Comunque Fai giocare almeno 30% Delle partite Della stagione seguente Ad almeno Un giocatore Del vivaio Acquistato nella prima stagione Non lo possiamo fare Perché non abbiamo preso nessuno Ottieni 10 vittori In casa Speriamo di farlo Conquista la promozione Quindi vogliono Che arriviamo in championship E a sto punto Raga Io taglio addirittura In FK Però Proverei a spingermi Più avanti possibili In FK Così Non mi rompono le scatole Poi Vendi due giocatori E comprane due cruciali Per rimpiazzarli Ok Uno si potrebbe fare Con Morton Eventualmente Che ora potrei mettere Anche sul mercato Effettivamente E termina la stagione Spendendo tutto il budget Ok Forse questo qui Con gli osservatori Si può fare Sono costretto A tenere d'occhio Anche gli obiettivi Perché FIFA è un gioco Magnifico Comunque ragazzi Come detto Mettiamo un attimo Morton Sul mercato Perché Si può fare A questo punto Perché Se non lo metto in vendita Difficilmente Arriveranno offerte Secondo me Quindi Ha più senso Fare così Benissimo Non voglio più muovermi Nella prossima puntata Semplicemente Andremo avanti Se non succederà Veramente nulla È ovvio che Andremo a giocarci Anche qualche partita Così Andare più avanti Possibile Quindi ragazzi Io per l'appunto Per oggi Mi fermo qua Ovviamente ragazzi Continuate a consigliarmi I giocatori Perché mai come Oggi Mai come ora È fondamentale Come cosa Come al solito Appunto Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivervi al canale Seguimi sulla pagina Instagram Ma sostenete il canale Tramite una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti